Ciao ragazzi e benvenuti in un video davvero particolare. Infatti oggi siamo qui per parlare di questo gimbal, di questo Zium Smooth X, ma non sono solo a farlo, sono in ottima compagnia. Infatti insieme con me ci sono i vincitori del Bochie Casting. Se non sapete cos'è il Bochie Casting vi lascio il video qui sopra. I vincitori sono stati due youtuber che mi hanno convinto per loro modo di raccontare e ho voluto effettivamente averli assieme a me per raccontare, per analizzare, per dare a ognuno la sua visione personale di com'è l'esperienza di utilizzo di questo gimbal. Il primo si chiama Alessandro Baldissera e vi rimando il video dedicato qui sopra. Il secondo invece si chiama Claudio Pupi, un fotografo in cammino e anche il suo video ve lo lascio qui sopra. Ma prima di farvi appunto vedere e ascoltare quelle che sono le nostre opinioni, la nostra visione ben dettagliata di questo prodotto. Iniziamo come sempre con ordine, tirandolo fuori dalla scatola. Ecco qui la confezione di vendita che date le dimensioni si nasconde con due mani dall'idea che sia un oggetto effettivamente compatto e tascabile. Sul davanti il disegno della posizione è aperta, sul retro fa vedere il chiuso e l'esteso. Sì perché lui dovrebbe interrare, lo vediamo tra poco, un gimbal. Andiamo quindi a intaccare la pellicola. Sì, l'apriamo tutta. Voilà. E spellicoliamo come se non ci fosse un domani. C'è un piccolo sigillo da andare anche questo a intaccare. Apriamo, apriamo, apriamo. Ed eccolo qui. Allora, c'è una fascettina che ci spiega come andare ad aprirlo. Fascettina che è? Adesiva? Sembra di sì. Io non vorrei distruggerla. Mi aiuto. Con il coltellino dove vado a tagliare? Qui. Ok. E qui abbiamo lui, ovviamente, dopo mi studio bene il funzionamento, c'è da dire che già tenendolo così in mano, bella sensazione. È tutta plastica, ma rimane leggero, ma al tempo stesso solido. Allora, queste istruzioni da studiare. Cos'altro abbiamo nella scatola? Questo è niente. La scatolina qui ci dovrebbe essere qualcosa di interessante. Ma leviamo anche queste istruzioni qui di lato. Vediamo un po' cosa abbiamo. Allora, un cavetto di ricarica di tipo USB-C. Eccola qui, l'USB-C. Carino questa grafica della carta di servizio che spiega appunto come funziona l'assistenza. E poi un libricino di istruzioni tra cui vedo anche che c'è l'italiano. Non lo vado a stringere, altrimenti non lo riuscirete mai a leggere. Vedete, guida introduttiva. Diamo un'occhiata. È davvero da accecarsi. Però qualche cosa c'è scritto, sì, in più lingue e via. Ma adesso vado per l'appunto a studiarmi lui e poi insomma vediamo insieme come funziona. Allora, effettivamente rimane compatto e leggero. Ma quanto di precisa? Andiamo a prendere la nostra solita bilancina di precisione, ce la mettiamo sopra e siamo a 248 grammi. Quindi effettivamente portarcelo dietro, magari come farebbe Claudio su una passeggiatona in montagna, non è assolutamente un problema. Mentre risulta un problema, le istruzioni fornite in dotazioni, ovvero questa fascettina qui, o ancora peggio il contenuto di questo libretto, in cui spiega con queste immagini cosa dovremmo fare. È difficile. Per fortuna comunque c'è il QR code che ci rimanda sul sito del Zion dove troviamo comunque il PDF fatto bene che spiega effettivamente cosa dobbiamo fare per aprirlo e utilizzarlo. Cosa c'è da fare in realtà? Allora, innanzitutto dobbiamo prendere questa parte qui, quella dove c'è scritto Zion, e ruotarla in questo modo. Così i comandi dall'interno passano all'esterno. Poi arrivati qui dobbiamo tirare leggermente e si scopre quello che è lo snodo e a questo punto possiamo inclinare verso l'alto. Quindi l'impugneto non rimane più incastrata qui in mezzo e possiamo anche sbloccare, vedete qui il simbolo del lucchetto, la parte che si muove. A questo punto dove c'è la X di Smooth X possiamo ruotarla tutta in questa direzione. Per me è semplice le prime volte, devo essere onesto, non è così intuitivo ed immediato. E adesso sì, è pronto per utilizzo. Qui c'è la parte interessante che al suo interno, poi mi sono sbagliato, c'è questo selfie stick. Quindi si riesce ad avere un'inquadratura non troppo ravvicinata di noi. Ma prima di andarci a mettere lo smartphone dobbiamo fare il bilanciamento iniziale. E qui attenzione, qui sotto c'è l'attacco per il cavalletto. Se avete un cavalletto è il momento di avvitarlo perché vi aiuta molto. Cambio leggermente inquadratura. Mi raccomando ragazzi, il bilanciamento iniziale è fondamentale. Perché se vi prendete sia un prodotto economico a questo ma anche un gimbal a 300 o 600 euro, comunque se non fate un buon bilanciamento iniziale i motori non lavoreranno alle condizioni ideali. Quindi avrete nella migliore dell'ipotesi una stabilizzazione sballata. Nella peggiore dell'ipotesi tutto il gimbal inizierà a tremare da solo e dite oddio l'ho rotto. No, non l'avete rotto. Avete soltanto sbagliato il bilanciamento. Allora, prendiamo quindi il nostro smartphone ed è importante che le fotocamere, qui abbiamo il mio iPhone 11 Pro, vi lascio qui sopra il video col confronto folle con la Canon. Le fotocamere, vedete, qui c'è una freccettina rossa che ci indica che deve essere da questa parte. Quindi mettiamo lo smartphone così e se lo lascio che succede? Boom, va giù sul lato destro. Perché è troppo verso il lato destro? Lo faccio scivolare leggermente, ancora cade. Lo faccio scivolare, cade, ma più lentamente, ancora un pelino, ed ecco qui. Quando effettivamente rimane bilanciato senza essere acceso ci siamo. E a questo punto, pressione lunga, vedete che qui inizia a lampeggiare. Il più lampeggiante possiamo premere la M ed è fisso. A questo punto, se io lo prendo in mano, lo vedete, io mi sposto a destra e lui rimane sempre piatto. Un attimo che levo lo stativo che a questo punto non ci serve più e non lo rompo. E riuscite a vedere l'effetto di stabilizzazione. Poi non solo, doppia pressione del tasto M e lui passa in Portrait. E ovviamente possiamo utilizzare il joystick per regolare la posizione. Ma tutto diventa molto più interessante, doppia pressione sulla M, andando ad attivare la sua app. L'app dedicata si chiama ZYKami. È obbligatorio utilizzarla la prima volta proprio per attivare lo Smooth X. Ovviamente è già configurato, il Bluetooth si collega subito. Ok, c'è il nuovo iOS 14 che mi parla della privacy della foto. Dobbiamo consentire l'accesso. Ok, e poi siamo pronti. L'app, in realtà la sto utilizzando ben prima dal ragionamento all'iOS 14. È quella classica con varie opzioni. Qualcosa un po' di più come Smart, con le musichette. Ma panoramica, foto, video, slow motion, telapse, hyperlapse. E anche se vogliamo il live streaming. Ma andiamo su quello classico, ovvero il video. E vi faccio vedere una delle caratteristiche più interessanti. Beh, allora, abbiamo già visto che c'è una connessione tra i due. E quindi la registrazione possiamo avviarla semplicemente premendo qui il tasto REC. Ma la cosa bella è che se noi prendiamo un qualsiasi oggettino, tipo il mio Alter Ego in versione Lego e disegniamo sullo schermo un rettangolo, questo viene agganciato e come vedete sempre tenuto al centro. Adesso faccio avviare la registrazione e vedete che mi seguirà sempre in qualsiasi direzione. Anche se vengo molto molto a destra dove ci sono le mie KEF, lui continua sempre a seguirmi. E continuerà a seguirmi anche se prendo e vado per esempio a fare uno zoom. E giustamente la messa a fuoco è sempre sull'area che ho scelto di agganciare. Fermo la registrazione e questo funziona la maniera più semplice possibile. Se vogliamo ricentrare, doppio clic cambia sia l'orientamento ma rimette al centro. E giustamente con il joystick comunque l'inquadratura ce la possiamo muovere in maniera molto fluida. Quindi uno si potrebbe anche mettere sulla scrivania, riprendersi da solo e se ci spostiamo a sinistra e a destra, lui continuerà a tenerci sempre al centro dell'inquadratura. Ma adesso andiamo a vederci uno spezzone video che realizzato durante un bel giretto in moto. Eccoci qui in questa bella passeggiatina con sullo sfondo il lago di Piediluco. Fatto un bel giretto in moto con la mia Guzzi California Jekyll insieme a un amico per andare a trovare altri amici. Insomma, classica giornata da motociclisti, giornata onestamente un po' caldina per essere in metà settembre. Comunque la messa a fuoco bloccata sul volto funziona molto bene, se mi avvicino se mi allontano. Con i comandi sull'impugnatura posso comunque anche andare a fare un po' di zoom, sembra gestito molto bene. E sì, la stabilizzazione è solo su due assi, però non si comporta affatto male. E poi avere questo gimbal con selfie stick incorporato permette anche di andare leggermente lontano senza troppi problemi. Per l'audio sì, c'è anche un po' di vento, quindi non so come andrà, ma direi che possiamo anche tornare in studio e vedere com'è andata questa ripresa. Attenzione ragazzi che l'effetto mosaico che avete visto nel cielo non è dovuto alla Zhiyun né alla sua app dedicata, quanto alla conversione che devo fare per mettere in montaggio i file MOV dell'iPhone. E il passaggio da MOV a mp4, per ragioni che non so, utilizzo sempre lo stesso software, questa volta mi ha creato questi problemi. Ma il risultato effettivamente secondo me è interessante. Però per andarlo a vedere in dettaglio passiamo a delle pacelline che oggi saranno particolari. Giustamente vado a coinvolgere sia Claudio che Alessandro, affidando a Claudio quel prevedente che è la descrizione di come è costruito questo gimbal, e affidando invece ad Alessandro quelle che sono le esperienze di utilizzo. Poi tornerò io per parlarvi un attimo, insomma, tirando le somme su quelli che sono i risultati. Allora ragazzi, vediamo insieme la costruzione del nuovo Zhiyun Smooth X. La prima cosa che salta all'occhio è la sua estrema compattezza. Sta tutto in una mano. Ok, il meccanismo di sblocco è un po' difficile la prima volta e anche la seconda, ma dopo un po' di pratica sarà velocissimo da utilizzare. La struttura di questo gimbal è totalmente in plastica dura, ma nonostante questo la sensazione al tatto è veramente piacevole e grazie alle serigrafie, che ce ne sono veramente tantissime, grazie al materiale antiscivolo dietro e ai diversi colori, il materiale antiscivolo è anche qui dove c'è l'attacco per i nostri telefoni, si avverte davvero che questo è un prodotto tecnologico e ben curato. Gli assi cardanici, in questo caso ne abbiamo solo due, questo e questo, si muovono benissimo anche da spento e ci fa capire quanto questo gimbal sia ben costruito. Quello che mi ha colpito di più di questo Zhiyun Smooth X è il suo peso, è leggerissimo. Pensate che pesa solo 246 grammi e per chi come me fa cammini, va spesso in montagna, il peso di ciò che porta nello zaino è davvero, davvero importante. Ci sono altre due cose che mi sono piaciute. La prima è il palo selfie. Ben 26 centimetri per vloggarvi e selfarvi nella maniera più figa possibile. L'altra è questa, non so se riuscite a vederla, è la capacità di inserire un treppiedi in questo gimbal. Sembra una cosa scontata ma non lo è ed è utilissimo per riprese a distanza e anche per gonfiare la bicicletta. Tutti i pulsanti sono al loro posto, sono davvero essenziali ma a tiro di pollice. Sono tutti qua. Velocemente abbiamo un joystick per muovere il gimbal, un pulsante rack o pulsante di scatto e un pulsante menu per passare dalla visione orizzontale o landscape a quella verticale o portrait. Ottime per le nostre storie su Instagram. Come avete capito la costruzione di questo Zhiyun Smooth X mi ha davvero convinto. Diciamo che l'unico limite che possiamo avere è quello della nostra creatività. Ahimè è arrivato il momento di parlare anche di alcuni punti negativi di questo Zhiyun Smooth X perché è bello, compatto, leggero ma pratico pochissimo perché per poter aprire questo gimbal guardate dovete fare questa leva, dovete tirare, far flettere questo punto della struttura per riuscire a far passare il supporto a morsa del vostro smartphone altrimenti non riuscite a farlo uscire. Questa cosa personalmente non l'ho gradita tantissimo. Avrebbero potuto inventarsi qualcosina, un altro tipo di sistema insomma potevano studiarlo un po' meglio visto che Zhiyun comunque è un'azienda di un certo livello. Un altro punto che non ho apprezzato è l'impugnatura. Io ragazzi ho una mano medio grande e quando devo star lì a lavorarci vi devo dire la verità mi sono trovato in più di un'occasione abbastanza scomodo perché per poter lavorare con i tastini funziona il joypad, lo zoom non vi dico, guardate una cosa difficoltosa devo tenere due dita qui sotto altrimenti se tengo la mano come natura vorrebbe nella costruzione di questo gimbal non riesco a fare niente devo tenere sempre il pollice un po' inclinato, forzare questa parte della mano se devo andare a premere i pulsanti ancora peggio, vedete divento veramente martire e matto lo zoom non vi dico neppure, guardate qui adesso sono anche con la mano abbastanza aperta perché è girata verso di voi, se la giro verso di me sono ancora più scomodo nel gestire lo zoom potevano magari mettere questi due pulsanti nella parte superiore spostare un po' lo zoom in maniera che tutti, anche quelli con le mani un po' più grandi riuscivano ad utilizzarlo al meglio, altrimenti o prendete la versione con il piccolo gimbal, con il piccolo scusatemi treppiede che va attaccato qui sotto quindi vi permette di stare un po' più in basso con la mano e più comodo altrimenti dovete trovare una soluzione un altro punto che invece mi ha lasciato senza parole è stata la totale assenza di istruzioni e si ragazzi non ci sono istruzioni di utilizzo di questo gimbal dovete assolutamente bene che ci siete guardare questo video tutorial perché altrimenti se dovete anche solo avviarlo non sapete come fare perché vi serve ovviamente installare l'applicazione per poter attivare il gimbal e farlo funzionare piccolo neo finale il fatto che a Claudio con il suo iphone 6 in alcuni casi l'app ha crashato può essere che il telefono sia datato quindi l'app un po' pesante e in alcuni momenti crasha ok ci sta, questo può accadere anche con altri telefoni non solo smartphone iOS ma anche smartphone Android quindi magari sarebbe il caso che Zium pensi ad un'app un po' più leggera magari una versione light in maniera che tutti coloro che hanno un telefono un po' più datato possono utilizzare questo gimbal senza dover per forza cambiare telefono per quanto mi riguarda i punti negativi se vogliamo definire negativi terminano qui Gianluca ti passo la linea quindi alla fine vale la pena o non vale la pena prendere questo piccolo gimbal allora innanzitutto un discorso il prezzo vi lascio il link qui sotto in descrizione lui costa 69,99 che effettivamente è estremamente conveniente per essere un oggetto costruito molto bene ricco di comandi e di possibilità come quelle per l'appunto di mettercelo lontano e quindi riuscire a fare magari un bel selfie insieme agli amici e lavorando anche in modalità portrait quindi possiamo farci anche le storie su Instagram o farci dei TikTok insomma possiamo farci davvero tutto tra parentesi mi trovate anche su TikTok in realtà però questo selfie stick crea qualche difficoltà perché il peso si allontana e il selfie stick funziona come una leva quindi in realtà l'impugnatura che risulta piccola ci crea qualche problema perché tra l'altro l'abbiamo detto manca il terzo asse quindi in realtà sullo spezzone video che abbiamo visto prima è quando cammino è lì quando camminiamo che il terzo asse fa davvero la differenza insomma la sua mancanza si sente tutta e qui infatti vi sparo un consiglio sì la zion è stata gentilissima fornircene ben tre quindi coinvolgendo anche Claudio Alessandro ma io vi consiglio che insomma se dovete avere soltanto una leggera stabilizzazione ormai gli smartphone di ultima generazione hanno già quella integrata che va benissimo quindi lui se vogliamo è utile per il selfie stick per i comandi remoti per l'inseguimento del soggetto la stabilizzazione è utile tanto quanto ma se volete davvero una signora stabilizzazione per smartphone io vi consiglio il modello superiore si chiama Smooth 4 e costa soltanto 30 euro in più 99 euro vi lascio anche di lui il link qui sotto in descrizione è più completo c'è la possibilità di controllare anche il follow focus tanti testini in più il terzo asse e anche il treppiede il difetto qual è? pesa più del doppio quello che è la potenzialità più grande di questo Smooth X è che un prodotto che in 250 rammi e poco più comunque due assi di stabilizzazione e un inseguimento efficace ce lo mette in mano che credetemi non è davvero poco ringrazio per avermi seguito fin qui mi raccomando iscrivetevi anche ai canali di Claudio e Alessandro e non solo se volete scoprire altri canali interessanti su YouTube scrivete sul motore di ricerca YouTube bocce casting e troverete tanti canali interessanti ciao a tutti ragazzi e al prossimo video